Ieri abbiamo parlato di quanto sia importante continuare a curare i rapporti umani. Penso che i primi rapporti umani che dobbiamo curare sono proprio gli ultimi che abbiamo avuto. Nelle ultime settimane abbiamo fatto degli appuntamenti vendita e proprio quelli possono essere i primi rapporti che possiamo tenere in considerazione. Possiamo andarci a vedere proprio tutti gli appuntamenti vendita che abbiamo fatto negli ultimi 20-30 giorni e magari ricontattare proprio quegli acquirenti. Su Tiplat c'è la possibilità di andare in un report che ci consente di vedere gli immobili che hanno fatto più visite secondo il tempo che tu preferisci. Scelto l'immobile ci clicchi sopra e vai a vedere proprio tutto l'elenco degli acquirenti che lo hanno visitato. A quel punto in maniera molto semplice cosa potrei fare? Prendere e chiamare quella persona e magari risviluppare quel rapporto che è molto recente e valutare se magari quell'immobile gli interessa. Questo in più di un caso ha portato, ma proprio negli ultimi giorni, che qualche acquirente ha fatto una proposta già in digitale, già ora. Quindi questo è un lavoro molto efficace che può portare immediatamente frutti importanti. Ma ora voglio farvelo vedere proprio sullo schermo in modo che possiate aver chiaro cosa potete fare perché queste sono azioni che portano subito a degli ottimi risultati e fanno sì che i clienti siano estremamente soddisfatti. Ora andiamo nella sezione Report Tiplat. Cliccando si apre il menu e troviamo la voce pubblicitari. Ci clicchiamo. Qui troverete immediatamente i filtri dove sarà consigliabile impostare magari gli ultimi 30 giorni. Poi qui nel caso ci sono le date che potrete impostare come preferite. Poi inserite la vostra agenzia, inserite la vostra agenzia, basterà cliccare su genera Report e cosa apparirà? Appariranno tutte le informazioni sui vostri immobili. Ma ora concentriamoci su quello che ci interessa di più. Gli immobili che negli ultimi 30 giorni hanno fatto più appuntamenti e qui troviamo immediatamente degli immobili. Cliccando su uno di questi immobili entrerò dentro il dettaglio del Report. Qua dentro troverete tutte le informazioni come ha reso a livello pubblicitario, quanti incroci di richiesta clienti, ma scendendo troverete anche la descrizione, l'annuncio. Questo lo affronteremo in un altro video. Più in basso arriveremo e troveremo tutti gli appuntamenti vendita che avete fatto negli ultimi 30 giorni e qui con un semplice clic potrete o entrare nella richiesta del cliente o semplicemente poi chiamarlo. In questo modo potete fare l'attività sugli acquirenti dell'ultimo periodo e magari stimolarli a una proposta. Oggi vi ho voluto parlare ancora di acquirenti e penso che le vostre azioni potranno essere estremamente produttive. Ora scrivetemi perché possiamo affrontare insieme tanti altri argomenti. Ditemi quello che vorreste perché lo potremo affrontare insieme. A domani e io resto produttivo.